ben tornati sul canale delle perle di vale oggi nuovo video in collaborazione col sito di simone creativamente plotter punto it era da tempo che non ne facevo mi è stato mandato del materiale quindi ho deciso di fare anzi mi è stata mandata anche la curio non ho fatto il video un bossing perché era talmente grande la scatola che non ci stava sulla tavola ma nei giorni nei prossimi giorni vi farò dei video anche per la curio 2 detto questo quindi vi faccio vedere questo attrezzo voi vi chiederete cosa c'entra questo attrezzo con il sito di simone che ha macchine plotter da taglio infatti me lo sono chiesto anch'io come ho detto lui vuole cercare vuole implementare il suo negozio con altri accessori quindi mi ha detto di provare per voi questo in realtà io già lo conosco già lo usato perché io uso molto in bigiotteria e vengono cose molto ma molto carine e però l'ho usato anche per fare dei fiori per abbellire le mie borse ho fatto anche un segnalibro questo attrezzo si chiama tricotin ed è nato per essere usato con lana e cotone ma non toglie di essere usato anche con altri fili come questo che è filo per bigiotteria per fare il crochet e i bijoux tessili quindi vi farò vedere come si usa ma intanto io voglio far vedere quello che io ho creato con questo vedete ho fatto questo braccialetto vedete il tubolare sicuramente questo essendo un filo un po sottile viene molto molto rado ma va bene lo stesso perché mi piace l'effetto che fa vedete poi ho messo questo a pietra sopra e ho messo il suo moschettone con la sua catenina e il suo anellino poi ho fatto questo che può sembrare è una farfallina e può essere sia usata come io farò una spilla per abiti ma non la toglie che può essere stata può essere fatta anche una spilla per capelli o può essere un ciondolo quello che la vostra fantasia vi dice io oggi però quello che voglio farvi vedere è come si usa molti di voi forse lo conoscono sanno già però io faccio il video il tricotin è questo devo dire che questo è diverso da quelli che uso io questi più completo mi piace molto di più perché c'è anche il suo peso è una molletta con all'interno dei pesi in modo che quando facciamo il nostro lavoro lo tenga bene teso e questi sono vedete dentro gli aghi per fare il punto a tubolare e sono quattro aghi che verranno chiusi da questa linguetta man mano che prende sul filo qui ci sono delle breve spiegazioni però io non ho guardato perché non ho capito niente io ho sempre ho iniziato a fare di testa mia poi useremo io uso del filo di nylon trasparente per andare poi a a inserire la nostro il nostro la nostra pietra e poi mi servirà un ago per io uso questi per fermare il filo il tricotin e userò metterò una pietra di queste quella l'ho fatta quadrata questa l'ho fatta così grande magari posso mettere una pietra questa volta la metto più piccola o non mi piace questo caso la metto un po più piccola magari faccio questa misura qui vedete queste grande e queste piccola poi magari ci posso mettere delle altre perle intorno tra secondo quello che che mi dice la mia fantasia in quel momento io di solito inizio lavoro non so poi l'uso che ne farò ci penso man mano che faccio il video bene ora vi faccio vedere come si usa avremo bisogno anche di un ago perché per cucire poi la base vedete io ho fatto in questo modo per attaccare poi la nostra pietra ora io prendo e la facciamo sempre di questo colore qua colore argento vi faccio vedere come si ho dovuto girare la videocamera perché altrimenti non riuscivo a farlo quindi vediamo come fare io inizio da a inserire il filo nella guida poi porto il filo metto dentro lo inserisco dentro al foro lo faccio passare da sotto in questo modo e lo vado a mettere il mio peso e per adesso lascio in questa maniera ora vi faccio vedere bene come mettere come fare il primo giro perché nel primo giro dobbiamo prendere prima una vedete e vedete e vedete che il lago a questa linguetta quindi come ho detto deve venire cioè quando viene presa la linguetta deve essere giù e quando gira questo deve portarlo su ma vi faccio vedere poi dopo quando siamo a questo passaggio quindi facciamo il primo il secondo lo lascio senza filo questo è solo l'inizio e giro in senso orario prendo l'altro con l'altro prendo il terzo vedete che quando viene su il filo va sotto la linguetta vedete che qui abbiamo la linguetta la linguetta deve essere sempre sotto al filo precedente quindi prende questo e prendiamo anche il filo che prima abbiamo lasciato a parte vedete e andiamo a fare questo se nel primo giro vedete che la linguetta non va sotto il filo non va sotto la linguetta dobbiamo accompagnarlo noi ma questo serve solo per i primi giri poi specialmente quando io adesso vi faccio vedere sono sulla tavola ma quando c'è il peso che tira va benissimo quindi vedi vedete così così mi raccomando che il punti siano presi tutti perché altrimenti poi il tubolare non viene quindi io mi aiuto in questo modo e tiriamo tiriamo ok ora iniziamo il lavoro vero e proprio vedete che devono essere presi tutti e quattro quindi iniziamo il lavoro vedete semplice semplice adesso io purtroppo dovrei tenere il peso qua quindi sotto le gambe per far sì che non ci sia nessun impedimento per il peso che mi tira giù in questo modo vi devo far vedere quindi vedete deve essere sempre preso in tutti i quattro e continuo così fino a che non voglio lunga io vi consiglio di contare i giri quando la manovella arriva su è un giro così vedete due giri adesso io ne ho fatti di più perché se dovete fare un paio di orecchini e dovete fare lungo uguali dovete contare i giri che fate con la manovella io adesso non le ho contate perché proprio era per farvi vedere vedete qui non è stato preso quindi io porto sotto con la con la mia con la mia con qualcosa che mi aiuta a tirare su in questo modo purtroppo i primi giri ecco qua vedete adesso tiro giù e adesso vado avanti e poi vi faccio vedere perché così lo faccio bene e vi faccio vedere dopo toglierlo e cucirlo vedete come deve venire dentro per essere tutto preso deve fare questo tipo di quadrato così è tutto perfetto vedete quando giriamo deve portare di sotto ora io ho fatto circa una cinquantina di giri tolgo poi aglio il filo da questo lato poi io faccio fare un giro indietro a diciamo in senso anti orario alla nostra macchina in modo da poter sganciare i fili in questo modo vedete porta su così tubolare vedete come è venuto però mi guasto due tre giri perché ora dobbiamo andare a cucire per fermare i quattro scusate per fermare i quattro punti quindi prendo con questo ago qui vedete i miei quattro così li stringo per far sì che vengono belli tesi vedete infilo lago e faccio passare scusate faccio passare qua così chiudo rifaccio un altro passaggio e ho chiuso il mio lavoro io tiro un pochettino per allungarlo vedete ora devo fare la base per mettere il nostro la nostra pietra come faccio faccio semplicemente un nodo in questa maniera vedete e lo metto circa la metà ok siccome questo essendo una pietra piccolina lo faccio più piccolo e stringo così una volta che abbiamo fatto questo noi andiamo a cucirci dentro il nostro la nostra pietra sopra cioè e mi aiuto con il filo invisibile me ne prendo un pezzo in questo modo e andiamo vedete che questi io metto questo ma voi potete mettere anche delle semplici perle potete fare un giro di perle come come più vi piace queste questi cabochon hanno il buco e sono quelli apposta per essere cuciti vedete hanno dei buchi qua quindi io metto la mia pietra sopra prendo il mio filo qui così attento a non farlo uscire da tutte e due le parti poi mi fermo il filo perché rimanga in questa posizione e vado a cucire il mio cabochon la mia pietra quindi passo da dentro al buco da questi forellini qua e lo vado a fermare in questo modo qui poi voi lo cucite come più vi è più semplice io adesso vi faccio vedere il mio metodo poi qui attenti perché essendo filo invisibile non si vede bene dove andiamo a metterlo quindi state attenti per far sì che venga cucito bene ora prendo entro nello stesso buco da questa parte faccio uscire dall'altra e prendo un po' di di lana di cotone qua così rientro nel buco e faccio ancora dall'altra parte in questo modo poi rifaccio qua per far sì che sono più sicura che stia bene chiuso ok vedete ok fatti i due nodini due tre nodini vado a tagliare con le forbici il filo in eccesso poi ora dobbiamo scusate dobbiamo mettere la nostra il nostro moschettone con la catena quindi come facciamo prima di tutto vado a tagliare in questo modo guardate che si è fissato bene vedete poi ora prendo il moschettone vedete allora potete mettere sia questi qua se li avete vedete io adesso ho messo potrei farlo anche con questi anzi stavolta lo facciamo con questo vediamo se ne ho un altro piccolo si possiamo usare questi ma possiamo usare anche questi vedete 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 questi questi sono tondi io qui ho messo il tondo in questo voglio metto questo vediamo come ci sta se viene bene o no allora io per essere più sicura gli metto anche un goccino di colla e uso questa colla quindi andiamo a mettere un goccino di colla dentro così sono più sicura che tiene in questo modo poi prendo le pinze e vado a stringere così faccio la stessa cosa dall'altra parte ora non ci resta che mettere il nostro moschettone e il nostro la nostra il nostro anellino e il braccialetto è fatto vedete questo è un altro modo per fare per fare il per usare il tricotin io spero di essere stata abbastanza chiara che il video vi sia piaciuto per adesso è tutto se non avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina per avere per rimanere sempre aggiornati dei nuovi video dei nuovi video che farò e sicuramente saranno tanti perché mi ha mandato diverse cose da testare Simone oltre che a usare la curio 2 bene detto questo io spero di essere stata chiara che vi sia piaciuto e io vi rimando al prossimo video ciao a tutti grazie